Ciao a tutti, da qualche minuto è iniziata la diretta della finale di Amici su Canale 5 e io stasera tramite le mie Instagram Stories vi farò vedere un po' quello che succede di un role quinte ad esempio Marcello Sacchetta che controlla il telefono vestito in un modo improponibile piccola anticipazione, Marcello Sacchetta nel primo quadro sarà vestito in questo modo non si sa con chi ballerà, non si sa cosa ballerà, ma lo scoprite tra poco su Canale 5 un altro grande amico mio, un personaggio assurdo, bravissimo, fortissimo, Ti-Wa-Ni Ti-Wa-Ni, scusate il prego di caffè che ha fatto un brutto incontro con un barbiere ed è pronto per un quadro di Sebastiano Grazie a tutti